Nei fatti il vero cambiamento. Non un semplice slogan scelto per la campagna elettorale ma la testimonianza di un impegno costante per il territorio, di chi alla politica delle promesse oppone quella delle cose concrete, dei progetti annunciati e portati a termine. Un impegno che l'ex sindaco di Biceglie Francesco Spina vuole trasferire anche in Parlamento, così come più volte ribadito, nel suo tour elettorale in vista delle politiche del 4 marzo prossimo, che lo vedono candidato per il centro-sinistra alla Camera dei Deputati, nel collegio uninominale che comprende Biceglie, Molfetta, Corato, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Lo ha fatto anche ieri sera a Giovinazzo e Biceglie. Altre due tappe del suo viaggio tra i cittadini, ai quali chiede fiducia per farsi portavoce delle istanze di questi territori. I cittadini erano un po' delusi dalla politica. Fortunatamente proprio il presidente Emiliano durante le regionali ebbe questa straordinaria intuizione che ha una logica di dare concretenza all'azione politica attraverso le rappresentanze istituzionali, le individuazioni dei candidati radicati sul territorio, ma anche un'intuizione politica a mio modo di vedere. È attualissimo il messaggio di un populismo fascista e mettere insieme tutte le liste civiche, tutte le istanze della società civile insieme al Partito Democratico significa organizzare oggi anche politicamente una vera e propria resistenza rispetto a questo dilagare di un atteggiamento violento, almeno verbalmente, qualche volta lo vediamo anche fisicamente e poi rispetto a questi populismi mascherati da stelle e stellette e qualche volta anche da questa lega che è la vera sostanza del centrodestra che si sta presentando anche in Puglia togliendo la semplice parola nord e si è trasformata oggi in una lega nazionale. A testimoniare l'impegno politico di Spina per il territorio il governatore della regione Puglia Michele Emiliano che ha accompagnato il candidato alla Camera dei Deputati in queste due tappe del suo tour elettorale. Abbiamo creato tante cose belle come anche col sindaco di Giovinazzo De Palma, ci siamo scelti non tanto per ragioni partitiche o ideologiche ma sulla prima linea delle cose da fare e naturalmente tra sindaci impegnati, capaci e che hanno cambiato il volto delle loro città si sono costruite relazioni umane che hanno poi determinato la candidatura di Francesco al collegio. Francesco non è tecnicamente il candidato del PD e anche il candidato del PD ma è il candidato del suo territorio. Quindi il centrosinistra ha avuto l'intelligenza di comprendere che per rappresentare delle storie positive dal punto di vista politico e amministrativo bisognava ricorrere alla sua candidatura qui nel collegio e ovviamente tutti quei legami umani che abbiamo costruito nel tempo si sono costruiti e si stanno qui raccogliendo.